Se ripartiamo dal migliorare ciascuno di noi, anche la società sarà migliore. Matteo Salvini, alla festa della Lega Marche, è stato l'assoppigliatutto dell'evento. Nonostante la sfilata di parlamentari e ministri della Repubblica, quello dell'appuntamento col comizio del leader, del vicepresidente e del ministro dell'interno è stato il punto focale della manifestazione e non poteva che non essere così. Nel prato del parco dell'aeroporto si è radunata una folla da grande vento, anche per certi versi con presenze trasversali ed inaspettate. Aveva anche predisposto un blitz all'hotel house di Porto Recanati prima di tuffarsi nell'annunciato bagno di folla, ma un guast ad un carrello dell'aereo che da malpensa lo doveva portare ad Ancona glielo ha impedito e così è arrivato direttamente a Fano anche in anticipo rispetto al rullino di marcia che vedeva il suo intervento per le 21, iniziato invece con qualche minuto di anticipo. 2.000, 3.000, forse 4.000 persone se pensiamo all'intera giornata, ma al di là della guerra dei numeri ciò che ha marcato il passo è stata l'accoglienza ed il clima della serata, al quale ormai Salvini è abituato, ma che comunque lo ha colpito. Tutt'altra cosa rispetto agli ultimi comizi in piazza Pesaro. Salvini, un'accoglienza su Fano che magari fosse anche inaspettata rispetto al passato? Fammi dire commovente, che però mi riempie di gioia sì, però di enorme responsabilità, c'è grande aspettativa sul lavoro, sulle pensioni, sulla scuola, sulla giustizia, sulla sicurezza. Siccome sono un autonomista e penso che le autonomie locali, i comuni e le regioni abbiano un potere fondamentale, liberare anche Regione Marche, liberare le energie di Regione Marche, penso alla sanità, penso all'agricoltura, penso al sostegno all'impresa, sarà fondamentale per la Lega e per il centro-destra. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie. Grazie di cuore. Alla luce di questa accoglienza e dei dati in ferocia scesa sui nuovi iscritti al partito, Salvini è fiducioso anche sull'espognare la roccaforte Marche dalla Governance PD, per i quali i cittadini verranno con le prossime amministrative presto chiamati a dare un preciso segnale. Pede dai marchigiani, però l'aria è buona, c'è voglia di serietà, di cambiamento, di cose giuste. Il loro tempo è finito, dice Salvini dal Parco, parlando delle Marche, riferendosi ai governanti del centro-sinistra. Adesso ci siamo noi, stanno tornando i veri valori, dice. Lavoro, famiglia, sicurezza, sanità. Parlando a braccio, alla pancia del movimento, il vice premier, gli argomenti sensibili, li tocca a tutti in un tripudio di applausi. Dopodiché si concede a ben due ore di selfie continue, mostrando una tempra d'acciaio, prima di recarsi poi in prefettura Pesaro, dove ha passato una tranquilla nottata. Come sicura e tranquilla è stata anche tutta la manifestazione, grazie alla presenza massiccia e rassicurante delle forze dell'ordine. E grazie per quello che fate, ma soprattutto per quello che farete. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.